Ok ragazzi, il momento è arrivato, finalmente direi anche Possiamo andare ad avviare Fortnite stagione 3 Questa è la nuova grafica, carina, le skin mi piacciono Quella skin femminile quindi non era per la scorsa season ma faceva parte del pass battaglia Mi raccomando ragazzi, quando componete il pass battaglia Usate il codice giocatore KTM, rottino basso, celeste 0825 E farò il giveaway del pass battaglia anche se molto probabilmente avete già visto il video del giveaway Perché questo dovrebbe uscire domani, invece il video che io voglio uscire oggi Quindi appena c'è il pass battaglia Stiamo avviando Fortnite e ci vediamo appena finisce il caricamento Ok ragazzi, questa è la schermata di caricamento Quel tipo viola con le corna, tipo demoni giapponesi, mi piace un tot Quel gatto, ah ma non è un veicolo, per fortuna non è un pet È proprio una skin, un gatto che pilota una moto, che fregnata ragazzi Ok, il trailer dovrebbe uscire adesso Ma povero Mita È arrivato senza niente Che sfigato Che furono squalo con... è morto No, è miasco Che sta cavalcando uno squalo con la canna da pesca Quindi anche questo leak era vero Li fanno a botte Oh, Brutus Cap muore Questo non è un c***o, questo non so perché Acquaman Oddio Com'è figo Com'è figo il flopper Il brattone Ci sono tutti qua Oh, damn Non mi ricordo, Jelly si chiama Pieno di macerie ragazzi Ho visto anche il tipo della falegnameria Molto figo tutto Perché mi ascolò, mi ascolò il protagonista di questo trailer Mi piace un sacco Però un pesce secco Oh, che cos'è sta roba? Mio Dio, quant'è figa La Renegade Rider infernale Che cosa ragazzi? Quindi tornerà la Renegade Rider? Quanta roba in un solo trailer Che sembra figo Sembra figo un botto Ci sono tre Splashdown Battle Pass Eccolo qui, Pass Battaglia Benvenuti nelle onde Il nostro Fortilla Qui puoi sbloccare i challenge Uh, che figa Kit Ciao Kit Che figo Oh No Nah, nah Che figo Oh, mio Dio Posso fare lo bello personalizzato Che figo Oh, mio Dio No, solo che non farò tanto danno alle macchine Mi piace un'altra Non farò tanto danno alle macchine E' il mio Dio E' il mio Dio E' il mio Dio E' il mio Dio quindi direi che posso invitare boxing pt06 e posso dare anche kneecraft, eccoli qua hehehe vuoi già venire comprare il pass battaglia? lo faccio subitissimo andiamo in battle pass andiamo dove cavolo si comprò come pass battaglia? ok direi che possiamo comprare il pass battaglia a 950 VB I WANT THE BATTLE PASS damn boys ti immagini si è dimenticato di mettere il suo codice gratuito ho messo il mio caccio, si l'ho messo, l'ho messo uff, fighissimo quindi direi che per adesso pulisco la skin della tifa questo tipo qua non mi piace per niente andiamo a fare adesso una battle pass review il primo balletto gratis sembra un balletto tipo quell'altro copietissimo da quell'altro non ricordo il nome si infatti ce l'ho io e mi sento violato la scia di flopper ragazzi abbiamo trovato la scia da mettere vicino pesce secco il pass battaglia è finito qua è finito qua il pass battaglia ah come sul pesce secco sul flopper è molto figo ma le hai viste di tutte le macchine che si possono guidare l'ombrello personalizzabile ragazzi fighissimo questa scia questa scia come è? non ci frega niente v-buck importantissimi questo deltaplano carino banner dell'ombrello ok quest'altra la scia di carriamento molto figa sono tutte quante questo stile chi lo sa un granchio con il testo di brutus questa miniatura copertura mi piace anche un bel po' che è questo? scuba jonesy damn questo balletto ma solo a me sembra che tipo hanno cambiato le animazioni quando fa le no strano boh non lo so forse c'è una mia abbiamo zainetto non ci interessa lo squalo martello che figo è un po' storto però questo banner dell'oni mi piace anche un altro scambio di carriamento in quello stile figa altri piccoli che non userò mai abbiamo Jules su questa skin mi piace un sacco un po' troppi tatuaggi forse però ci sta nel personaggio mi piace se c'era anche il beetle davanti era ancora più figo però abbiamo un'altra roba qui poco interessante una strata schema di carriamento sempre figa piccoli carini ma non userò mai la musica bella un vero banger come dice il nome questo del tablano è fighissimo ragazzi è un po' forse l'unico del tablano leggendario che userò anche se mi sembra sempre un po' troppo grande poi bisogna vedere in game come sarà la maschera per voyager carini ah ma è lui è sto tipo che diventa quel tipo fighissimo no il gatto che si costruisce l'armatura figa passiamo subito alle motte fa cacare fa cacare però dai ci sta una sorta di caricamento gratis ci sta non la di speciale kit che figo kit mamma mia ragazzi super figo forse questo è uno dei pass battaglia migliori in quanto a skin devo dire questa è molto figa questa è molto figa tutti quanti questo planetary vibe mi piace anche dai ci sta beh hanno assoluto una cantante che mi stanno facendo fare tutte le motte con la cantina si 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 è la stessa che facevo pure ai machit è la stessa che fa amkitti kit amkatt poche cose abbiamo più altri piccoli grazie balking questo eternal light praticamente ha fatto il cavaliere ultima più magro però è comunque figa come skin e poi mask cioè a meno che la cavaliere ultima non avesse la fregna di se vabbè appunto e invece metti che anche il sesso si dà metti che lei un otto kinder e poi la skin finale mask ne sa a me piace un sacco forse sarà un po' troppo ingomrande però questa maschera vabbè perchè c'ha l'uni per questo è figa appunto hanno cambiato il pump ancora? no questo è il pump o leggendario o mitico son mitico? un pump mitico fregno ci sono altre ci sono altre armi mitico ragazzi ragazzi posso dirlo posso confermarlo borgo bislacco è cambiato non c'è più è cambiato ci sono i punti interrogativi le uniche parti che non sono cambiate sono state si pietra grifoglio bulghiere bumose lago languido corso commercio la montagna vicino craggy e le casette vicino il faro tutta la mappa è tutta la scoprire si ci sta questo no questa parte qua devo andare a vedere per forza non c'è borgo che fregno che è ragazzi 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 è proprio lì non ci sta niente borgo è lì ancora più piccolo ancora meno loot ancora più persone let's go borgo sta la ma veramente metà dai ce l'abbiamo fatta due anni per sommergerlo a metà andiamo a vedere il tornado un palazzo è il benzinaio voglio andare a vedere qua ma cos'è qualcuno è un tornado gigantesco secondo te è un tornado gigantesco secondo te bella la casa su salvagente ragazzi si io l'ho qua per forza guarda che fai vai giù muori è quello che voglio vedere si spruzzerà in aria no ragazzi la casa di pesce secco tutta sommersa no no scendiamo sotto perchè non sarà mai si può nuotare no what a word e che si fa niente si vola si vola tanto ah ma che palle il vulcano 2.0 è vero ma io vado a forte frittella ehm io vado qua a fare l'ultimo saluto all'isola di pesce secco poi vediamoci quella barca lì molto interessante si sente ancora la musica quindi si può vibeare ancora qui se ti vuoi rilassare ragazzi il caccia è in game il caccia è in game let's go ragazzi season 3 miglior season del capitolo due direi il caccia è in game può finire posso fare il video che ho scritto il caccia è in game il caccia è in game fine 10 ore di il caccia è in game il caccia è in game che ne so il chuck splash caccia caccia è in game il caccia è in game il caccia è in game caccia è in game le dani sangue caccia caccia è il chuck splash C'è il cavolfiore! Nuovo boss! Nuovo boss! La salute è il massimo! Eh, che ha visto con lo subalo? Che ha visto con lo subalo capirà Oh fuck yeah Yeet Sono solamente due, devo dire un bel bilanciamento Perchè erano tutti Che cosa succede è che finalmente dopo 3 season abbiamo ascoltato veramente Gli utenti che hanno aggiunto la roba che gli utenti volevano Forse hanno visto che Valorant Sta facendo un po' troppo di player C'è il P90 da capo ragazzi 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 Cos'è sta roba? Il pump nuovo C'è il shotgun Cosa fa sta roba? E' un colpo solo Fa 85 di danno ragazzi E' tornato del danno su questo gioco E ha un fire rate alto Ragazzi c'è anche Ragazzi ha un fire rate abbastanza alto C'è il bolt action quello vecchio No way Che fai non butti così il caccia Ragazzi ho provato di caccia Ho zero colpi nel caccia Io non ho colpi e basta Allora mi tiro un cavolfiore Fa lo stesso effetto dello slurp Cos'è? Lo slurp Mi stai sento che lo slurp è tornato Sotto forma di cavolfiore grigio No è troppo No ma fa molto più cacare Ah ti cura la vita nel tempo La vita verde Non è lo stesso effetto dello slurp No vabbè E' come dire Fa lo stesso effetto dello slurp E' come dire fa lo stesso effetto dello slurp Che però ti cura solamente venti di vita Eh beh Comunque il slurp ti cura Non dice quanto ma ti cura Qua un cacciaverro perchè ti vuole arrapare Ragazzi se vedete qui a fare sto pallone Ragazzi come vedete è un'altra cosa fighissima Venite qua Se è vero che è così Ahhhh E' vero No way Eh mi ha fatto prendere uno di danno Grazie ragazzi Uno squadra ragazzi Ha ammaiinato le vele Abba bordo Che fighe gli squari Oh 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 mio dio Oh Oh Ho spazzo ho spazzo Sto bomba fa 25 danno di base Ma che è? Ma va a cacare E' lento Un aiutino Un aiutino Arrivo Leo Sto qua Ah tu sei questo Ah sei a terra Eh ragazzi è finita Che stup Primo lama Della Ci sono tre Ma che Oh mio dio Oh mio dio questa roba salta Ehhh Shock attack Ma che è sta roba Sta roba salta È cambiato Oh ma questo è enorme Mamma mia Solo per quello Oh ma guarda lì in fondo 91 ah sono bot Sono bot Sono bot Ragazzi gli ho fatto 91 Sono bot Ci vediamo Questi qua danno roba ragazzi Ah danno roba Ottimo Mi sono spaccato le gambe Ah rompere le palle Ah vanno pochissima vita No No ragazzi no Le scorreggine Ci sono tante le scorreggine Ragazzi Eccolo qua Una nuova arma Eccaccia epico Che meme enorme Qua ragazzi 172 nel shot Fa il pompa caricato verde 172 Si Porca Ma no Raga Fa provare Aspetta Se me lo prendo io Ragazzi guardate cosa vi lascio Dove entriamo a finire Chi indovina vince un biscotto Davanti un henchman Con il bermuda Con il bermuda Con il bermuda Ce avrà con il bermuda Bro Hai il calpio cecchino bro Si No qua ragazzi Ok mi sento più libero adesso Io li flanco Li flanco Li flanco Li flanco Ora va morto No ragazzi Mi hanno distrutto Mi hanno distrutto Però anche distrutto Quando non posso farla Vabbè ragazzi Sto caccio Non intuo più niente No ma neanche io Contro loro Boxing Non lo capisco 27 A 1 Mi avvicino Beh shield 1 Atterra 1 Atterra 1 Buono Buonissimo Let's go No li ho fatti tutti io Più 1 alla tempesta Vabbè Boom 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 Direi che Queste qua sono le highlight Delle nostre prime partite Della season 3 E se il video vi è piaciuto Vi lascio un bel like Se volete condividere Con i vostri amici Vi ho dato un sacco Vi ricordo il giveaway Del pass battaglia 3 Ho fatto uscire il video ieri Lo trovate sul canale Inoltre Se sei nuovo Iscriviti al canale E noi ci vediamo al prossimo video Bye bye